Sicuramente conoscete Wikipedia. È un'enciclopedia libera, online, scritta da volontari da ogni parte del mondo. Ma come possono migliaia di persone costruire insieme un'enciclopedia? Beh, innanzitutto Wikipedia è un wiki, un sito che chiunque può modificare. Infatti in Wikipedia basta un clic per modificare o creare una nuova voce. Ma per restare in Wikipedia ogni contributo deve rispettare due regole basilari. La prima è la verificabilità. Con così tanti contributori, le voci di Wikipedia devono basarsi su informazioni pubblicate da fonti attendibili e riconosciute, ad esempio libri o giornali. La citazione di queste fonti garantisce che le informazioni nelle voci siano affidabili e di alta qualità. Ciò che non è verificato non può entrare in Wikipedia. Per esempio, puoi scrivere che il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti nel 1935 era il 20,1%, ma devi anche citare la sua fonte. In questo caso, molti libri di storia possono essere delle fonti verificabili. La seconda regola richiede l'utilizzo di un punto di vista neutrale. Tutto il materiale di Wikipedia deve essere presentato onestamente e in modo bilanciato, esattamente come in ogni altra enciclopedia. Questo significa che Wikipedia non è un posto per esprimere le proprie opinioni personali. Ammettiamo che un promotore delle vaccinazioni scriva «Ogni genitore deve vaccinare i propri figli». Purtroppo questa affermazione è di parte e certamente causerà disaccordo, dunque non può restare in Wikipedia. Ad ogni modo, le opinioni di esperti pubblicate possono essere incluse e se queste opinioni differiscono, la voce deve presentare tutti i principali punti di vista senza preferirne uno sull'altro. Per esempio, se si scrive che «Vaccinando tutti i bambini statunitensi si stima di salvare 33.000 vite» e si cita una fonte rispettabile, si tratta di un'affermazione che può essere verificata. E se ci sono visioni opposte, devono essere incluse. Per esempio, citare una fonte rispettabile che voci critiche sostengono che le vaccinazioni non hanno apportato alcun beneficio alla salute pubblica aiuta a bilanciare la voce e mantenerla neutrale. Seguendo queste due regole, i contributori si possono rispettare l'un l'altro e possono insieme creare un'enciclopedia libera, la più grande nella storia umana. Per saperne di più, visitate wikipedia.org